Buonanotte a tutti gli amici del Locus e Basso, sono circa le 10.10, siamo un po' in ritardo stasera con il video e varie cose, domani siamo nella settimana santa, il famoso martedì santo, tutti sanno che è successo a martedì santo, non ne abbiamo più palle di idea, c'è il mistero della settimana santa è che domenica Gesù entra a Gerusalemme con le palme, io ho preso anche il ramoscelli d'olivo, poi stasettimana è impegnativa, c'è il giovedì santo, la benedizione delle ova, venerdì la processione, io ho fatto anche la chirichetta da bambino e si cantava Giuda infame le dure funie, perché gli antisemitismi sono stati di vari tipi, farò un video sull'antisemitismo, visto siamo ritornati, no, dicevo che comunque che cosa abbia fatto Gesù il luvedì, martedì e mercoledì non si sa, non si sa, è andato a trovare degli amici, la mamma, parenti, ha avuto una scena di lavoro, la penultima scena secondo me ha fatto, questo è uno sketch di Monty Python, perché Michelangelo ha dipinto l'ultima scena, cercato su youtube, non credo che sia tradotto in italiano, però è la posta da morire dalla risa, e il papa dice per cosa c'è che non va nella mia ultima scena, ci sono troppi canguri, di canguri, dice no ma dico, dicevo vorrei sapere, dice il papa perché hai fatto tre Christi, tre Christi, ci sono troppi, ma servivano per bilanciare la pittura, no, se non avete visto vedo lo sketch, vabbè, è bellissimo, Monty Python è una cosa da urlo, veramente credo che non, cioè nel senso perché Michelangelo non ha dipinto l'ultima scena, siamo degli, io sono religioso, perché in questo periodo sono gli altri che ci devono rompere, vedete noi che siamo cristiani, non andiamo molto a rompere le scale, sì qualcuno farà, però non è che stiamo lì a fare video, no ma basta, non è che passiamo col camioncino, vi carichiamo e vi portiamo a messa la domenica, non ci venite, fate voi, ma è tranquilla la cosa, io credo che sia tranquilla, credo che sia un modo, un modo scrivente tranquillo questo, in futuro non sarà tranquillo, ma non per colpa dei cattolici, che ormai sono una minoranza sparuta e sparita, ma non di questo parleremo, non del cosa affatto diciamo che siamo, diciamo che siamo, il lunedì, siamo nell'ultima settimana santa, quindi poi giovedì c'è l'ultima scena, visto che sono rientrata, cioè sono, alcuna gente se n'è andata, per i miei video ovviamente, ho fatto due video di difesa, ma non dello stato ebraico, ma delle vittime dell'attentato al 7 settembre, queste sono le mie idee, farò anche un video di ciò sull'antisemitismo e comunque mentre le prime luci cadono sulla città, le tenebre, avvolgono Firenze, i vampiri escono dalle bare e gli okusai escono dai bar, bare, bar, no, battuta la grauscia, questo 10 disiscrizioni tutte, va bene, parlando del nostro amico L'Uomo Ragno, che è uscito stamani, io ho sempre molto piacere a leggere queste vecchie storie dell'anno 80, ovviamente in questo caso non sono, è un momento, Peter Parker impazzisce, vabbè non sono storie, sono parte di Wolfman che poi abbandona, abbandonerà la Marvel, Wolfman, di senso è Kate Pollard, Matiteson, è il classico monagno, è più un punitore, è un punitore ovviamente, l'opposizione tra, il punitore è un po' il, un po' tipo James Coburn, il Vendicatore della Notte, ma quello che c'è qua lì, spistoleta, mentre l'uomo ragno è più anni 60, studente, un po' più di sinistra, progressivo, cioè lui li avvolge nella ragnatena ma non fa tanti danni, quindi c'è uno scontro anche interessante tra il punitore, no, quello che aspetto con ansia è Warlock 2, che insomma questi sono quelli che mi piacciono, cioè naturalmente ho fatto al numero 1, queste sono le prossime uscite, sui luci vado di Palin Frasca, Warlock, Capitale America, Thor, i difensori, Iron Man e i Fantastic Four, Warlock era un personaggio da ragazzino che c'era tantissimo, è una prefigurazione, una postfigurazione di Cristo in certo senso, perché abbiamo parlato ovviamente della Fenice Nera, qui c'è un articolo sulla Fenice Nera, che è sempre negli anni 80, appunto c'è un articolo su Shooter, Jim Shooter che costitza appunto Clermont e Byron di fare la storia della Fenice Nera e a farla morire dopo il genocidio, insomma Shooter non era un personaggio che entrava molto, cioè non era molto democratico, quindi naturalmente a volte alcuni interventi avevano più senso, nella Fenice Nera altri interventi non avevano Miss Marvel, insomma con Tempus, alcune storie a volte diventavano un po' troppo si mette Miss Marvel che appunto si mette al mondo un bambino, che Marcus, beh diventa Marcus stesso, Miss Marvel si vive a Marcus volontariamente diventando di fatto l'amante di suo figlio, insomma, tanta roba con Fumetto Marvel, non ovviamente l'uomo ragno, l'uomo ragno sapete, io adoro anche i disegni di Kate Pollard, quindi adoro perché sono, ovviamente c'è un fattore nostalgico, queste storie sono le storie, parte di Wolf, parte di Michelin, è un periodo in cui l'uomo ragno è single, il Mary Jane lo ha lanciato, lo ha lasciato, c'è una citazione della morte di Gwen, io credo che la prima fidanzata dell'uomo ragno fosse la migliore, mi è sempre dispiaciuto, ho sempre, vabbè sono personaggi di carta, però anche Gwen muore nel senso che poi appunto se noi facciamo un fatto, cioè il problema della morte delle fidanzate, non è nato con Jenny di Zango, Gwen dell'uomo ragno è morta negli anni 70, credo, quindi c'è roba vecchia, però Gwen era la ragazza più anni 60, ragazzina del campus, eccetera, eccetera, la figlia dell'ispettore, non mi ricordo come si chiamava, Gwen Anistesi, e poi aveva la società Mary Jane che è più aggressiva, rossa, rossa di fuoco, eccetera, eccetera, poi tra l'uomo ragno e Mary Jane, sono state varie storie, questa è una fase di trapasso in cui l'uomo ragno cerca, cerca moglie, sembra un film con, con coso, il principe cerca moglie, chi era? Cerca moglie con, vabbè, quel film lì, chi era chi era? Gubbi ancestrali, cosmici, il principe cerca moglie, no con, non c'ho, sennò tutti ci dormono, non ci dormono la notte, scusate, non ci dormono la notte, poi, tra l'altro mi addormento con un sasso alle 11, e poi mi sveglio alle 14, 4 del mattino, e poi non mi addormento più, e quindi è una fregatura, perché quando ti svegli, il principe cerca moglie, quando ti svegli alle 4 di mattina, è una fregatura, perché, era con, con, con Eddie Murphy, Eddie Murphy, anche tu l'uomo ragno cerca fidanzata, quindi ha varie storie, tra l'altro una storia edipica con, c'è Dazzler, Dazzler che è la eroina, scusate, faccio questo gesto iconico, che mi piace, è l'eroina, cioè qui c'è varie storie, insomma, un po' sbandato, Dazzler è una sorta di cantante rock che ha un potere, con la musica, insomma, che è prigioniera, in questo caso, di un, di un uomo luce, vabbè, in senso, però molto, molto sexy, molto anni 70, 80, a me piace molto, cioè io tornerei negli anni 70, solo per fidanzarmi con un ragazzo insieme, nel senso, dovendo scegliere, io sceglierei subito una ragazza anni 70, potendo tornare indietro nel tempo, cosa, probabilmente non è possibile, a me piace proprio questo tipo di, a me piace molto più Gwen che Mary Jane, Mary Jane è più anni 80, ecco, io sono degli anni 80, poi in realtà, nel senso che no, sono degli anni 80, sono nato negli anni, nel 68, ma a due anni fidanzate ne avevo poche, anche negli anni 70, eccetera, negli anni 80 comincia a avere le sveglioni della giungla, quindi, però, Mary Jane è più anni 80, freddo il sabato sera, vabbè, tutte queste cose lì, però, io preferisco, cioè, quelle, le figure che mi piace sono quelle tipo anni 60, Gwen è un più personaggio anni anni 60, Woodstock, eccetera, eccetera, Dazer, sì, è una cantante rock and lip, sì, questa è più anni 80, però c'ha, vabbè, è una stessa fatta perché si deve lanciare, in contemporanea è una cantante vera, all'inizio doveva essere addirittura di colore, poi diventa bionda, bisognerà di questo essere Lightmaster, Lightmaster, che è un po' assolutamente dimenticare nell'uomo ragno che la utilizzano in batteria, mi piace la battuta finale, che ti devo tutto come potrò mai sdebitarmi, l'uomo ragno fa non preoccuparti, bella, ho la sensazione che troveremo il moto, cioè, per esempio, è l'uomo ragno qui, guardate, c'è un po' di tosse, l'imbranato che è in parchi e qui si sta, un momento, sa, quando, ricorda quando la moglie è in vacanza, quando Mary Jane è in vacanza, Gwen è morto ormai, quindi ci prova con lei, ci prova ovviamente con la gatta nera, ma poi scopre che ha dei problemi psicopatologici innumerevoli, complessi dei tipi, eccetera, eccetera, è molto divertente, sì, per esempio, la, cosa si chiamava, l'eroina che, Desert, Desert, ha questo superpotere che sembra quelle palle che stavano nelle discoteche, tipo, che ruotavano, vabbè, lei la sua forza è la musica, e l'uomo ragno, l'uomo ragno, dall'alto ci sono citazioni, no, dicevo, il punitore ovviamente, a me piace molto il punitore, tra l'altro in questo primo numero di Wolfgang si parla della droga, in questo caso l'uomo ragno e il punitore è una storia non stupida, nel senso che l'uomo ragno e il punitore stanno con una delle tante pseudo fidanzate dell'uomo ragno, cioè gli danno quasi tutte buca, o sono pazze, o sono ladre, o sono tutte e due come il catta e la gatta nera, si fidanzia una studentessa che vuole rubare i compiti dei, vabbè, quello che ci piacerebbe all'uomo ragno è che aveva una sfiga pazzesca, cioè pur essendo dici sei un cavo di supereroi, zompi da un palazzo all'altro, ma è stato il più sfigato di tutti i supereroi, cioè questo ci era il fantozzi dei supereroi, diciamo così, poi i disegni ovviamente sono, sì, sono anni 80, vabbè, poi c'è JJ, questa è una delle fidanziae, insomma delle avventure finite male l'uomo ragno, diceva il punitore, per i spacciatori di droga che spacciano davanti alle scuole, scusate, non solo in menta Wolf, ma era proprio così, ci sono delle scene molto tragiche, questa prima storia forse la più tragica, perché a un certo punto ci si trova da fronte a una drogata, se la troviamo, ecco, se la troviamo, il dialogo, cioè De Temi ovviamente dice vuoi una bella storia tipo la ragazza cinese cresciuta in famiglia troppo numerosa senza affetti, no è sbagliato, la mia famiglia era ottima, fratelli e genitori mi volevano tutti bene, l'ho fatto per la droga, cioè lei fa la corriera, ovviamente si fa la prostituzione, non viene nominata, ovviamente la prostituzione, prometto, Marvel non può essere nominata, ma chi vuol capire, capisce, quindi l'inferno della droga, sono gli vari infermi che gli uomini si creano, quindi ci sono ne Wolfman, ero un grande sceneggiatore, c'è una storia in cui il nemico ovviamente è questo spacciatore Jacobs o qualcosa di simile, che ovviamente è una scena, questa scena qui è molto, quando lei confessa di essere una tossicodipendente, cioè profumetto Marvel anni 80, la lasciamo perdere ora, che siamo tutti evoluti eccetera, però noi che i giorni anni 80 era tanta roba, lo spacciatore che distribuisce panetti di eroina davanti alle scuole, questa scena qui è terrificante, è una scena terrificante, è una generazione perduta, ora io essendo di quella generazione, sono sopravvissuto ma sono di quella generazione è nata negli anni 68, in realtà una generazione negli anni 70, molti di quella mia generazione sono andati persi, non parlerò di pazienza per chi penso sia, non parlerò di Tamburini che non so quanti se lo ricordano, è un grandissimo sceneggiatore di Ranxero, Tannino Liberatore ancora fa l'illustratore, ma Ranxero, Tannino Liberatore e Tamburini è stata una grande esperienza, però abbiamo perso tante persone per l'eroina, oggi va più la cocaina, che negli anni 70-80 la cocaina era la droga dei ricchi, mentre l'eroina era la droga dei tossici, tra l'altro a Cetona dove sono nato io c'era una, c'è ancora, un'associazione di recupero tossicodipendenti Mondo X, dove probabilmente ci ha soggiornato anche il figlio, ma anche Fred Agnelli secondo me ci ha fatto qualche passaggio, anche perché all'epoca Cetona non fosse assolutamente sconosciuto nel mondo eccetera eccetera, sapete, non lo lasceremo perdere, ma detto tutto questo, figlio maschio, credo che si amasse Eduardo Agnelli, ricordo sempre Gurdjieff come l'uomo diventa una macchina, come menti Gisberg, ho visto gli menti migliori della mia generazione, Eduardo Agnelli, su uscita nel 2000-2008, c'è stata tutta la teoria, via, ma lasciamo perdere, guarda, c'è, ma, ma, quindi per un fumetto trattare queste cose non è una cosa così, poi le altre storie si cita con Campa, si Campa, si, Campa, si, Campa, buonasera, non so, dei momenti di, di, di asfasia, disfasia, dislessia, e, allora, qui è da Osborne aggrappare in chiave, in chiave a Peter, no, Peter, Peter Parker, scusate, guardate, insegna di Star Trek, ovviamente siamo negli anni 80, Star Trek e Buffo, perché non Buffo, sono lontano, mentre sono in un concerto, cioè, mentre sono in un cinema, ovviamente c'è una sorta di attentato, scusate, sono ai minimi termini, minimi storici, questo video lo abbozzerò abbastanza velocemente, questo farà la gioia dei miei ascoltatori e teleudenti, però, eh, cioè, quello che a me piace di questi fumetti, rivedo dei spezzoni della mia giovinezza, quindi, il film Star Trek, ovviamente tutte, tutte le citazioni che sono presenti in questo fumetto di anni 80, ovviamente per chi, ah, JJ che esce fuori di Merone, tra l'altro qui c'è un omaggio a Gene Day che morì a 32 anni, 31-32 anni, disegnatore e inchiostratore, in parte da Marvel, che poi creò una sua, una sua, vabbè, qui c'è lo scienziato pazzo, creò una sua casa editrice, ma, insomma, era il periodo anche degli, delle sperimentazioni, insomma, vabbè, qui lo scienziato pazzo, ovviamente molto bella anche l'avventura con la gatta nera che si innamora e l'uomo ragno, gatta nera, che insomma, peccato che passava un cavallo, non so, però, no, io ci avrei passato, no, raggi anche, scusate, i disegni, i disegni di Kate Pollard sono fantastici e anche, soprattutto, disegni anche sexy, cioè sexy, nel quanto qui c'è una giovane studentessa che cerca di abbordare il professore per fregargli i compiti, eh, questo è l'aspettativo, e l'uomo ragno che è da solo ci casca e poi scopre, ovviamente essendo l'uomo ragno, mi pizzica il senso di ragno, o, naturalmente non è che vi sto a dire, non sono, sono storie, ovviamente che, qui sono 4 o 5 i numeri, sono tutte storie dell'anno 80, se volete recuperare un po' del gusto, del sapore dell'anno 80, dall'altro disegnate molto bello, Kate Pollard è un grandissimo disegnatore, insomma, mi viene, perché stiamo a fare, insomma, l'uomo ragno, vabbè, c'è qui la gatta nera, ma, tanta roba, poi c'è un'altra ragazza che da buco, cioè qui ci sono una ventina di fidanzate possibili, poi ovviamente tornerà con Mary Jane, si sposeranno, eccetera, eccetera, Michelin, eccetera, sale artefice, tutto questo, Wolfgang nell'ultima storia viene sostenuto a Michelin, non so come si pronuncia di preciso, JJ esce fuori di Berone, più una storia un po' comica, Mesmero, l'uomo ragno, il teatro, sta lì, eccetera, eccetera, Mesmero che riuscita un po' la storia degli X-Men, dove Mesmero aveva ipnotizzato tutti gli X-Men su tordi di magneto e si dedica in uno scalcinato, uno scalcinato di Broglie, a ipnotizzare, Mesmero, ovviamente, ricorda il mesmerismo, cioè quella corrente magnetica, eccetera, eccetera, dello scienziato tedesco, Mesmero, che viene citato ovviamente da De Gallampo, da De Gallampo, cita molto spesso il mesmerismo, ovviamente una forza magnetica che passa, fluisce da un corpo, da una mente all'altra, eccetera, eccetera, che per un certo tempo, succhia, fu creduta una forza scientifica, poi tra cosa è scientifica e cosa non è scientifica, non c'entra lei, comunque, vi straconsiglio che Pollard, Wolfman e anche Michelin, che sono i classici del fumento, ogni tanto, io ovviamente mi butto su cose sulle quali sono un po' più preparato, quindi, cioè, io ovviamente quando vedo queste storie, questi disegni, non lo so, mi piacciono, mi piace, quindi vabbè, c'è, non sono storie, però a volte, come soprattutto la prima storia del punitore, la droga, insomma, sono storie che a volte Wolfman butta giù dei pezzi d'anno avanti, insomma, lo scontro del punitore, c'è il punitore che vuole sparare a tutta l'anno, c'è, c'è una concessione giustizia molto alla cowboy, nel senso, il punitore, rimanda ovviamente a Devil, al kitchen, eccetera, eccetera, i quartieri degradati di New York, la droga, insomma, rimandano un po' a quegli ambienti e noi che vivevamo in zone rurali o rurali, insomma, non ci piaceva tanto il nuovo, ci piaceva tanto e ovviamente ci identificavamo tutti nel nuovo ragno, Spider-Man, Spider-Man, vabbè, Spider-Man, scusate, il suo momento di esaltazione gasatica, perché ovviamente era realmente sfigato che mentre i fantastici fuori erano tutti attrezzati, c'erano il palazzo, però anche Stan Lee metterà sempre un personaggio un po' sfigato, il tipo dei Fantastici Quarto, quello sfigato, ovviamente è la cosa, perché ovviamente che relazioni umane può avere in confronto, Hulk sarà anche verde, però almeno l'aspetto umano ci non lo conserva, la cosa come l'accia con quei pezzi di sasso sulla faccia, insomma, dopo l'avevamo trattata male. Poi, quindi, vabbè, però, diciamo, era più le loro anni 60-70 che riproponeva un po' quel tipo di persona di 70, idealista, eccetera, eccetera, che poi si è persa tutto, non lo so, rimanda il passaggio anche l'uomo ragno da Gwen che rimanda a Woodgust, un po' quell'atmosfera degli anni 60, veramente Gwen è stato, a me è dispiaciuto, diciamo, ancora meglio, a me di Jenny, scusate, di Zago, non me ne frega niente, ho detto, ora si discriveranno, non me ne frega una cipa, la solita mi frega di Jenny, ma che poi non è neanche un personaggio creato da Bonelli, vabbè, cioè, non è neanche un personaggio stato creato da Boselli, non da Bonelli, Jenny non c'era, quando era ragazzo io, Jenny, non esisteva, quando avevo dieci anni, quindi è un personaggio anche venuto dopo, quindi, mentre Gwen, Gwen Stasi è stata la prima fidanzata dopo anni, di Peter Parkinson, e quello fu per noi anche l'idea che il fumetto, mentre, ripeto, il fumetto italiano alla morte veniva sempre evitata, è stato il fumetto americano che ha introdotto il concetto di morte, di personaggi, appunto Gwen Stacy e altri personaggi, e gli X-Men è una strage continua di personaggi, con Claire Maud, insomma, tanta roba, e con questo vi chiuderei questo video che è durato 24 minuti che non c'è più forze, allo estremo delle forze, consigliandovi comunque il vecchio uomo ragno, costa 8,99 euro, però c'è anche delle belle copertine, qui vedete James Osborne, cioè, vabbè, Goblin, insomma, queste sono delle storie che, vabbè, Panic in the Prison, Panic in the Prison, Osborne che qui appare solo in due vignette, però ovviamente tutta la saga di Osborne, di Goblin, Goblin, insomma, ci potremmo stare per giornate, l'uomo coccodrillo, insomma, c'era quello che si sonnava in coccodrillo, insomma, è un pezzo della mia giovinezza, insomma, quindi, boh, fatevi, cioè, non è che io, io, testamente non sono uno di quelli che dividirò occhi i fumetti di quando ero ragazzo ieri erano meglio, eh, sono i fumetti della mia giovinezza, quindi per me rappresentano, cioè, non posso guardare questi fumetti con occhio obiettivo, perché non lo posso fare, perché per me rappresentano un pezzo della mia infanzia, quindi come favo a guardarli, cioè, io se leggo un manga, non posso leggerlo come leggo l'uomo ragna, perché l'uomo ragna, ah, mi ricordo quando ero ragazzino, se leggo un manga ora, non mi ricordo, cioè, può essere anche più bello, però questo scatena un effetto prostiano, la Recherche du Tamper Duke e l'altro, lo scatena, quindi io quando li leggo questi fumetti, cioè, si torna, per me, una sorta di macchina del tempo, cioè, personaggi come JJ oggi farebbero un po' ridere come Cico, però, a nostri tempi, per l'altro ho trovato un video molto bello, ho usato, ho il mio filaniano, la solitudine del sacro, ma è costato 5,80, quindi meno di un fumetto, è una prima edizione che ho fatto, è il mio filaniano, insomma, stai facendo un, ogni tanto qualcuno dice, no, ci sono quei posti che i deficienti fanno, no, l'Italia, la Leonardo da Vinci, non parliamo, non parliamo di Leonardo da Vinci, pensate agli intellettuali che c'erano negli anni 60, 70, 60, Flaiano, Longanesi, Montanelli, maledetti Toscani, c'era una barca di intellettuali che oggi non abbiamo più un cazzo, scusate, abbiamo quattro deficienti di studenti che vanno a fare manifestazioni, però me lo trovate un Flaiano, un Bassano, me lo trovate, la moggia, ora donna, santa donna, per carità, ora è morta anche lei, ma, insomma, Flaiano, c'è solo il nome Flaiano, c'è solo il nome Flaiano, ma è lo stesso Montanelli, oggi abbiamo il nulla, non è nulla, ma non stiamo, quindi, parte qualche, chi ci sa, Travaglio, che se mi tornassi, vabbè, Travaglio, cioè, abbiamo un personaggio di scarsissimo, ma quelli che emergono un pochino di più, perché Travaglio sa anche scrivere, per carità, no, cioè, vuoi dire, Cardarelli, anche i poeti, cioè, Montale, Cardarelli, che cavolo ci abbiamo, dice, no, ma io non voglio, c'è sempre di fare il catone, ma non è che sto parlando di morale, mi sto parlando di morale, mi rispondendo, mi trovate un poeta come Cardarelli, un Landolfi, me lo trovate, per piacere, ditemi, c'è un Landolfi che gira sconosciuto a Firenze e traduce Gogol in cameretta sua, non c'è niente, e credo che, forse, insomma, e questo è, quindi io leggo l'uomo ragno, che devo fare, leggo i giornali, per farci trovarci cosa, la leggo l'uomo ragno, anche quelli che su YouTube fanno, fanno mostra di essere intellettuali, che sono solo delle caricature, anche che non sono, non farò noi, ma sono delle miserevoli caricature, che a voi, è che basti una barba, barba non fa shit il filosofo, cioè, una barba non fa il filosofo, io mi posso dare, cioè, non perché io la, io sono un cretino e c'ho la barba, ma veramente delle persone che tu le guardi, ma, ma, allora preferisco i pazzi di YouTube, è che io ho trovato un pazzo, non pazzo, bellissima, che parla anche un po' marchigiano, che mi sta parlando, partendo da teorie russe di flamenco, come si chiama, mi sta dicendo che la storia è stata falsificata e che gli antichi romani vanno messi nel 1100 dopo Cristo, io l'ho guardato in un'ambilazione e ho detto, genio, genio, io ti amo, ti amo, hai l'obbio, non credo in questa teoria, però è geniale, io adoro la follia, come nell'Ottocento, uno scrisse un libro, mi ricordo che Napoleone non era mai esistito, lo scrisse dopo un morto Napoleone, dice, Napoleone è una dimensione mitologica, ma come fai allora male, cioè, è famatissimo, perché erano solamente assurda, però ci fa riflettere sul passato, e io sono della filosofia indiana, gli indiani se ne sono sempre strafregati della storia, perché per un indiano, un evento che è accaduto un'ora fa, o un milione di anni fa, è sempre passato, quindi non hanno interesse a calcolare quanto sia passato. Questa ossessione di calcolare il tempo occidentale, gli indiani una cosa è passata, è passata, o un'ora fa, un miliardo di anni fa, tanto non torna, una cosa è passata, è passata, e questo, secondo me, la filosofia indiana è più saggia della quella occidentale, una cosa che è passata anche da un secondo, non tornerà qui, che sia passata da un secondo, da un milione di anni è passata, è passata, è finita, è andata, non ce ne frega niente, bravissimi, e gli indiani hanno inventato i numeri, che sono detti armi, non sono indiani, ma questa è tutta un'altra storia, volevo fare un video breve, l'ho fatto ovviamente di 30 minuti, come al solito. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio, perde il vizio, ma non il pelo, fare un po' voi, se lo decide. Grazie a tutti.